Insight è il percorso di validazione dell'ideal business model, quindi un vero e proprio percorso di una durata di circa sette mesi che si propone di accompagnare i futuri imprenditori nell'analisi, pianificazione e sviluppo della propria idea imprenditoriale, attraverso una serie di passi conseguenziali che gli aiutino a cercare di ottenere il maggior successo possibile minimizzando le possibilità di fallimento. Sardegna Ricerche mette a disposizione un innovation voucher fino a un massimo di 7.000 euro che i beneficiari dell'idea potranno utilizzare per mettere in atto la propria strategia di validazione. Le persone che ne cerchiamo sono residenti in Sardegna hanno più di 18 anni e hanno un'idea innovativa che vogliono portare avanti e con la quale vogliono realizzare un'impresa nella quale credono e che porti sviluppo nel territorio. Per partecipare al bando è necessario compilare il form di iscrizione della propria idea imprenditoriale disponibile nel sito www.sardegnericerche-bandi.it, scegliere nel menu a tendina il bando Insight, percorso di validazione dell'ideal business model e caricare i documenti che vengono richiesti dal testo guida. La prima edizione di Insight ha visto partecipare 10 team, qualcuno singolarmente e qualcuno in gruppo, che stanno attualmente portando avanti la loro idea. Sono in fase di lancio e di promozione delle proprie landing page su internet. Se volete sapere cosa è una landing page lo scoprirete durante il nostro percorso se parteciperete. I contatti dello sportello startup sono sportellostartup.it. Lo sportello startup è a disposizione per tutte le eventuali domande per aiutare i team che abbiano intenzione di partecipare a rendere la loro domanda di partecipazione il più efficiente possibile.